In attesa di comprendere chi sarà il timone della Salernità nel DS De Santis inizia a muovere i primi passi. Granata sembrano a voler fare sul serio e si stanno muovendo sul mercato per consolidare la propria rosa. Le prossime 48 ore saranno cruciali perché si prevede che saranno formalizzati i riscatti di due giocatori chiave, Bulai e Dia dal Villareal e Lorenzo Pirola dall'Inter. L'arrivo di Dia nella Salernità è stato uno dei colpi di mercato. Le sue 16 reti, il terzo posto nella classifica a marcatori, hanno fatto sì che molti club mettessero gli occhi su di lui. Con il Villareal c'è una clausola fissata a 12 milioni con la società di Iervolino pronta a pagarla. Anche Lorenzo Pirola, giovane difensore cresciuto nel vivario dell'Inter, sembra destinato a diventare un punto fermo. La Salernità ha avviato le trattative con il club milanese per formalizzare il riscatto del giocatore che ha già dimostrato grandi potenzialità e maturità nonostante la giovane età. Tuttavia, mentre la Salernità si concentra su queste importanti operazioni di mercato, c'è un altro dilemma che deve ancora essere risolto. Il futuro di Paolo Sosa, allenatore di grande esperienza e carisma, sembra essere però vicino al Napoli. De Laurenti si è alla ricerca di un nuovo timoniere dopo l'addio di Spalletti, ha messo gli occhi su di lui. La Salernitana, a sua volta, potrebbe ritrovarsi spiazzata e dovrà correre ai ripari. Nella costante ricerca di stabilità e successo, i Granata stanno ripensando a due vecchie conoscenze per la panchina. Rino Gattuso, ex allenatore del Valencia, e Vincenzo Montella. Questi nomi emergono come possibili sostituti del portoghese, ma ciò che sorprende è che questa non sia la prima volta che la società Granata si interessi ad entrambi gli allenatori. Il presidente della Salernitana di Ervolino aveva già tentato di convincere Gattuso a prendere le redini della squadra nel febbraio scorso, quando l'ex tecnico del Napoli era senza squadra. Tuttavia, Gattuso decise di rifiutare l'offerta. Anche Montella, con il suo passato nel calcio italiano, ha attirato le attenzioni Granata. Quando la squadra campana manifestò il proprio interesse in passato, Montella però preferì proseguire la sua avventura in Turchia. La situazione sembra però essere cambiata, aprendo nuovi scenari ad entrambi gli allenatori.